Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Calabria News 24. A Reggio Calabria la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per circa 2 milioni di euro ad un noto imprenditore della zona. Beni per un valore di 1,8 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanziari del Comando Provinciale di Reggio Calabria sotto il coordinamento della DDA nei confronti di Giuseppe Chirico, noto imprenditore regino operante nel settore della grande distribuzione alimentare. Si tratta in particolare di buoni postali fruttiferi, conti correnti, depositi a risparmio, depositi titoli, polizze assicurative e carte prepagate. Chirico è stato arrestato nel maggio dello scorso anno nell'operazione Fata Morgana condotta alla Guardia di Finanza con l'accusa di associazione mafiosa. Secondo l'accusa in particolare Chirico si sarebbe posto quale imprenditore a espressione dell'Andrangheta usufruendo dell'appoggio costante delle cosche Tegano e di una ramificazione della cosca Condello operante nel quartiere di Gallico che faceva riferimento al defunto domenico consolato Chirico riuscendo così a espandere i propri interessi ed infiltrandosi nel settore delle aste immobiliari. In particolare secondo gli inquirenti Chirico avvalendosi della Soral Sass, società di cui era socio amministratore indicata quale ditta di riferimento della criminalità organizzata avrebbe favorito il gruppo criminale di riferimento alterando il tessuto economico reggino sano. Alla luce dell'operazione Fata Morgana la DDA ha delegato al nucleo di polizia tributaria Gico e al gruppo di Reggio Calabria della Guardia di Finanza indagini di carattere economico patrimoniale per individuare i beni immobili ed immobili riconducibili a Chirico dalle quali è emersa una sproporzione tra i redditi dichiarati ed il complesso dei beni di cui Chirico e il suo nucleo familiare potevano disporre. Alla luce di tali risultati, su richiesta della DDA, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio ha disposto nel luglio scorso il sequestro di prevenzione del patrimonio riconducibile a Chirico risultato essere costituito dalla sua società e dai beni aziendali, da un terreno, un'auto, politiche assicurative, fondi comuni di investimento e depositi titoli per un valore complessivo di 19 milioni di euro. A questa cifra si aggiunge adesso il sequestro di ulteriori 1,8 milioni. Da due giorni è scoppiata la bufera per il comune di Seregno in provincia di Monza commissariato per infiltrazioni mafiose. La giunta comunale di Seregno è caduta, a seguito delle dimissioni di consiglieri, assessori di Lega Nord, Forza Italia e della minoranza, centro-sinistra e liste civiche che hanno deciso in massa di abbandonare l'incarico. Il comune da due giorni è al centro della bufera per la maxi-inchiesta su infiltrazioni di indrangheta nel mondo della politica e delle imprenditori a embrianza. Secondo la minoranza, però, senza il loro contributo, la giunta sarebbe rimasta in piedi. È stata una scelta necessaria anche per la minoranza, dato che qualcuno della maggioranza non ha mollato, ha commentato William Viganò, capogruppo del PD, nella pena decaduto consiglio. La decisione di tutto il consiglio comunale ha evitato l'eventuale commissariamento del comune, ipotizzato dal prefetto di Monza, Giovanna Vilasi, ieri sera, a seguito dell'attesa decisione del GIP di Monza. Il padrone dell'amministrazione comunale di Seregno, in Brianza, finita al centro della maxi-inchiesta per corruzione e anche unico padrone del sindaco Edoardo Mazza, ora ai domiciliari, sarebbe stato Giacinto Mariani. Il vice sindaco, leghista indagato per abuso d'ufficio, emerge da un'intercettazione contenuta in una notazione dei carabinieri. In una telefonata dell'ottobre 2015 il costruttore Antonino Lugarà, in carcere per corruzione vicino all'andrangheta, parla di Mazza con Stefano Gatti, consigliere, e quest'ultimo gli dice Lui c'è il padrone, unico padrone, Giacinto Mariani. In un'altra intercettazione un architetto dice che Mazza è di fatto guidato dal vice sindaco Mariani, definendolo nella circostanza addirittura una pedina. Da un'indagine nazionale si evince che l'evasione fiscale in Calabria vale ben 6 miliardi di euro. Un buco nero da oltre 6 miliardi di euro, questa è la stima dell'economia non osservata calabrese, che emerge dall'ultima relazione ufficiale, che include anche la valutazione sull'evasione fiscale e contributiva italiana, uno dei documenti di accompagnamento alla recente nota di aggregamento del DEF. Come già rilevato nella più recente versione Istat dei conti economici territoriali, il sommerso e le attività illeciti calabresi pesano il 21,2%, corrispondenti appunto a circa 6,1 miliardi di euro. Del valore aggiunto prodotto nel 2014, quindi oltre a un quinto di quanto generato dal tessuto economico regionale regolare. Si tratta del dato percentuale più alto nel confronto nazionale che si attesta ad una media del 14,5%. Alle spalle della Calabria si collocano altre due regioni del mezzogiorno, ovvero Campania e Sicilia. I dati dell'Inps del 2016 certificano l'esecuzione di 1.259 ispezioni nei confronti di aziende calabresi che hanno portato a galla un maggiore accertamento sul versamento previdenziale, pari a 62,1 milioni di euro. Ancora più impressionanti i numeri della vigilanza sugli adempimenti assicurativi. Su 505 ispezioni, ben 490 aziende calabresi sono risultate non in regola, ossia il 97,03%. L'attività del 2016 ha fatto emergere 1.801 lavoratori irregolari, di cui 162 in nero. Passando poi alle imposte, i calabresi non pare amino particolarmente l'Imu. Infatti il relativo tax gap calabrese arriva al 41,5%, indice al di sopra di ogni altra regione italiana. Arrivano i primi fondi per la provincia di Vibo, Valencia. Quasi 4 milioni di euro che serviranno non solo a pagare gli stipendi, ma anche per le strade e le scuole. Finalmente un po' di ossigeno per la provincia di Vibo, Valencia. Il Ministero dell'Interno ha comunicato di aver inoltrato alcuni finanziamenti spettanti all'ente per strade, scuole e stipendi. Si tratta di 3.900.000 euro che permetteranno soprattutto ai dipendenti di tirare un sospiro di sollievo. Nelle scorse settimane erano nuovamente scesi sul piede di guerra, dapprima occupando la stanza dell'ufficio gare e dell'amministrazione provinciale, la SUAP, e poi recandosi finanche presso la città della regionale, in quanto non percepivano lo stipendio da ben 5 mesi. Lì erano stati ricevuti dall'assessore allo sviluppo economico e promozione delle attività produttive, nonché vice capo gabinetto del presente della Giunta, Carmen Barbalace, chiedendo un decreto salvavibo da inserire nella finanziaria 2018. Passati alcuni giorni erano stati assicurati che almeno il mese di maggio sarebbe stato pagato. Ora, con l'arrivo dei nuovi fondi, arriveranno anche gli altri arretrati. Ma non solo i dipendenti dell'ente potranno gioire, visto che parte di questi trasferimenti, 1.600.000 euro, sono quota parte dei soldi stanziati alle province italiane per la viabilità, mentre degli altri 2.300.000 euro, che vengono attinti dal cosiddetto Fondo Sperimentale di Riequilibrio, solo in parte serviranno a pagare gli stipendi arretrati. Il resto consentirà di effettuare una prima anutenzione ordinaria delle scuole di pertenenza della provincia. Oltre a questi, non bisogna dimenticare gli altri 900.000 euro di fondi che la Regione Calabria deve alla provincia di Vibo Valenza, fondi che, secondo il Presidente della provincia Andrea Niglia, dovrebbero essere a disposizione entro la fine della prossima settimana. A Rende, nel 2018, saranno realizzate due nuove grandi opere. Di infrastrutture si è parlato molto nel corso dei cantiere Calabria, la tre giorni organizzata all'Università della Calabria due settimane fa, ed è stata annunciata la realizzazione di un nuovo svincolo sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, che interesserà l'area urbana di Cosenza, e in particolare proprio l'Unical e le zone limitrofe ricadenti nei comuni di Rende e Montalto Fugo, un'opera che, come annunciato anche dal Sindaco di Rende, Marcello Manna, costerà circa 33 milioni di euro con i lavori che partiranno nel 2018 e sarà molto utile per l'Ateneo, per la zona industriale e per le zone limitrofe, spostando un notevole volume di traffico dall'attuale svincolo di Cosenza Nord. Ma non sarà questo l'unico cantiere che partirà nel 2018 a Rende? Sarà infatti realizzata anche la Rotatore sulla Statale 107, che attraversa proprio Rende nella zona dello Stadio Lorenzen, teatro in questi anni di numerosi incidenti. Quest'ultima opera costerà invece poco meno di 400 mila euro. Il primo punto luce progetto di Save the Children, sorto in Calabria, si trova ed opera in maniera effettiva a Scalea, nell'Alto Tirreno, Cosentino. Abbiamo intervistato il responsabile del centro per un resoconto dei tre anni di attività. Nel 2014 Save the Children ha lanciato la campagna Illuminiamo il Futuro per contrastare un fenomeno rilevante ma ancora in ombra rispetto ad altri, quello della povertà educativa, che si lega inevitabilmente a molte situazioni d'emergenza dei territori e comunità. E ha dato vita ai punti luce, spazi dove bambini e adolescenti possono seguire gratuitamente attività educative, ricreative e culturali. E se alle cronache è noto quello di San Luca, il primo in Calabria fu aperto a Scalea. Scalea collaborava già con Save the Children perché con Libera era già operativo un centro socioeducativo legato al contrasto alla dispersione scolastica. La scommessa è stata investire a 360 gradi sulla presa in carico di minori dei 6-16 anni e quindi entrare in questa campagna Illuminiamo il Futuro e scommettere sulle opportunità che venivano date, che vengono date ai minori e quindi sul loro futuro. Si chiama Ecomuseo, la struttura che li ospita, che è diventato un luogo simbolo. L'ha stato costruito con fondi strutturali europei e poi è lasciato morire così sul territorio. Averlo preso in carico, averlo trasformato in un centro educativo ha dato la possibilità ad altre associazioni di entrare ma soprattutto ci fa capire che la parola rete è una parola che spesso ci dà quasi la nausea per quanto è abusata e svuotata di significato e invece davvero a volte può diventare concreta e lasciare un segno sul territorio. In tre anni cosa ha rappresentato questo presidio e oggi come risponde il territorio? Si è guadagnato sul campo i galloni e la fiducia delle famiglie soprattutto di una certa fascia di famiglie in situazioni di disagio socio-economico che normalmente passano da uno stato di rassegnazione e quindi di degrado educativo in cui lasciano i loro figli, ha uno stato di protesta però abbastanza fine a se stessa e quella classica dei servizi sociali per avere un sostegno economico. Con noi i genitori sono entrati in rete, abbiamo dei genitori che sono anche volontari qui. Di noi si fidano, si fidano perché vedono che il rapporto che abbiamo con i loro figli è un rapporto basato sulla fiducia reciproca, sul rispetto reciproco, sul riconoscimento dei diritti e del minore e della famiglia e questo ci pone in una posizione fortunata e privilegiata che è quella di un dialogo aperto che ci permette anche di fare formazione sui genitori e quindi di fare quei passi verso la comunità educante che sono indispensabili per poter costruire una realtà educativa positiva su un territorio. E concludiamo con un ultimo servizio, si aggiudica la Coppa d'Argento, una coppia di danzatori calabresi. Ascoltiamo i particolari nel servizio. Medaglia d'argento per la castrovillerese Saramola ed il cosentino Mario Palermo ai campionati del mondo in classe Master 1 ottenuto nei giorni scorsi a Bertrange in Lussemburgo. Siamo laureati vice campioni del mondo lo scorso weekend a Bertrange in Lussemburgo. Abbiamo cercato di vincere, però è stata una bella lotta perché per pochi centesimi di voto di punti abbiamo perso il titolo, però siamo soddisfattissimi per quello che abbiamo realizzato soprattutto a frutto dei sacrifici e del lavoro quotidiano che svolgiamo in palestra, in sala, su noi stessi e quindi molta, molta soddisfazione per questo. La pluri premiata coppia, formatasi artisticamente due anni fa e vincitori del campionato italiano gareggia nelle competizioni più importanti del loro settore ed in questo mondiale di danze latino-americane per professionisti hanno rappresentato l'Italia sfiorando il primo posto per pochissimi centesimi di voto. È sicuramente emozionante vincere un titolo così importante anche perché siamo reduci dei campionati italiani non per niente abbiamo rappresentato l'Italia al mondiale come vincitori dei campionati italiani sia dello scorso anno che di quest'anno quindi è anche un po' una responsabilità quella che abbiamo rappresentare l'Italia all'estero. E anche per questa edizione è tutto io vi aspetto alle 20.45 per ulteriori aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi.